Partecipare a Connext sarà molto importante, sia per tutti gli imprenditori associati alla nostra associazione Confindustria, ma anche a chi non è associato, anche per chi non fa ancora il nostro mestiere, che è il mestiere più bello del mondo. Sarà un'opportunità per confrontarci piccole, medie e grandi aziende e anche tante start-up. Tanti ragazzi che vogliono fare gli imprenditori potranno partecipare a Connext, confrontarsi con le aziende. Sarà un modo per contaminarsi, per conoscerci anche dal punto di vista operativo e di business. Per fare anche sì qualche affare, ma soprattutto per porre le basi di un rapporto costruttivo, basato anche sulla conoscenza non solo personale, ma anche di quella aziendale. Sarà un luogo dove potremo avere una visione di lungo periodo e fare anche delle conoscenze importanti dal punto di vista imprenditoriale. Sarà un modo per far crescere tanti giovani che possono diventare imprenditori. Noi come Giovani Imprenditori Confindustria saremo presenti, saremo presenti con un nostro spazio, aziende dei giovani imprenditori che vogliono essere presenti e che vorranno essere presenti a Connext. È la prima manifestazione di partenariato industriale che la nostra associazione mette in campo. È una grande sfida che ci sentiamo come giovani imprenditori e come giovani di raccogliere e rilanciare. Quindi spero che siano presenti tanti associati di Confindustria, ma soprattutto tanti non associati, non solo per il marketing associativo, ma per la valenza culturale che può avere questa manifestazione. Sarà un'occasione anche di confrontarci con aziende internazionali, investitori stranieri che guardano favorevolmente il nostro paese, ma anche con paesi e associazioni di altri paesi che affacciano sul bacino del Mediterraneo, per permettere alle nostre aziende italiane di confrontarsi con il resto del mondo e permettere di far vedere agli investitori e altre aziende straniere quello che è il nostro tessuto imprenditoriale, quelle che sono le prospettive di crescita del nostro paese, per raccontarci e per raccontarvi. Per questo è importantissimo partecipare a Connext.